Si chiama Rinascite, il titolo della prima edizione del Festival delle città del Medioevo in programma all'Aquila dal 21 giugno sino al 25 giugno. Gli appuntamenti si snoderanno tra il Parco del Castello e l'Advitorium, oggi la presentazione per quello che sarà un grande evento di divulgazione storica ideato dall'Università e dal Comune che hanno partecipato alle spese a metà nell'unica grande città italiana nata in età medievale. Sono previsti incontri culturali con storici, giornalisti, artisti e scrittori in un viaggio tra i secoli che muove dal Mediterraneo alla Via della Seta. L'aspetto interessante è che tutte le lezioni di storia saranno arricchite da rievocazioni, laboratori, esibizioni, spettacoli, animazioni e visite guidate. Al Parco del Castello sarà posto anche il villaggio dei rievocatori, una cittadella medievale, saranno presenti anche associazioni di fuori regione. Qui ci sarà pure una fiera del libro che accompagnerà i visitatori tra arcieri, amanuenzi, falconieri e sbandieratori. L'inaugurazione del Festival mercoledì 21 giugno con la presenza dello storico Franco Cardini e uno spettacolo la sera ridotto con Amedeo Feniello e Alessandro Vanoli accompagnati dall'ISA, ma si tratta di un programma molto articolato e intenso. È un'iniziativa molto importante e anche di un certo peso economico che abbiamo voluto mettere in campo per valorizzare questo periodo storico che coincide con la fondazione della città e con i suoi passi iniziali, perché l'Aquila nasce in pieno basso medioevo e che vuole essere però contestualmente un momento di divulgazione scientifica rigorosa e anche di divulgazione popolare per far avvicinare la conoscenza della città e la popolazione sin dalle sue origini. L'Ateneo è una parte molto sviluppata, insomma, da questo punto di vista, storia e archeologia, ci saranno tanti ospiti illustri? Certamente, ci saranno ospiti illustri, professori illustri del nostro Ateneo che sono esperti di argomenti medioevali, ma ci saranno poi i maggiori esperti nazionali e internazionali sul tema della storia, della religione, delle usanze, delle consuetudini, dei mestieri e questo garantirà una settimana di intrattenimento a 360 gradi da cose molto serie, molto approfondite scientificamente, alle cose più divulgative che attrarranno sicuramente l'interesse di tutte le fasce di popolazioni, spero soprattutto dei giovani.